L'ipertrofia prostatica venigna rappresenta sicuramente una delle patologie urologiche più frequenti nel sesso maschile con un notevole impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Esistono diverse opzioni terapeutiche, mediche e chirurgiche per la risoluzione di tale patologia e a cavallo tra questi due tipi di trattamento si sono presentati nel panorama urologico negli ultimi anni diverse forme di trattamenti mini ultrainvasivi, tra cui la TPLA, ossia il trattamento all'ablazione laser per via transperineale della prostata. Da un punto di vista clinico la procedura prevede l'utilizzo di aghi che vengono introdotti per via transperineale, quindi nella regione tra lo scroto e l'ano, all'interno dei quali poi vengono posizionate delle fibre che attraverso l'erogazione di energia laser inducono un effetto di necrosi coagulativa, ossia un effetto di coartazione della zona trattata che poi determina un effetto di restrizione con riduzione della compressione da parte della ghiandola prostatica all'interno del lume dell'uretra. Ciò si traduce da un punto di vista clinico nel miglioramento degli outcome funzionali urinari dei pazienti con un miglioramento del flusso, quindi degli indici flussimetrici, ed un miglioramento dello svuotamento vescicale. In tutto questo la procedura eseguita per via anestesia locoregionale senza sedazione profonda permette il recupero rapido di tutte le funzioni e oltre ad una dimissione precoce del paziente stesso che il giorno stesso a distanza di poche ore dalla procedura può essere dimesso con catetere vescicale da tenersi in sede 4-5 giorni per la riduzione dell'edema che può essere conseguente all'effetto di necrosi stessa.